Ciao ragazzi, guardate un po' con chi sono qua, con Karak. Allora, se voglio farvelo vedere bene, Karak, fatti vedere bene, lui si accuccia addirittura, guardate. Allora, se qualcuno di voi fosse interessato a adottare questo bel maschio di due anni, colui vi fa una buona guardia, non è una guardia troppo spinta, in compenso lui è molto vigile, oltre a essere un bellissimo cane, è alto più o meno 80 al garese, ha un'ottima linea di sangue, e non so, vi ho messo già anche i filmati, fa una buona guardia di deterrenza senza essere un cane troppo mordace, quindi è il cane ideale per chi ha una proprietà e vuole il famoso cane, che se c'è il padrone, lui accetta l'ingresso degli estrani, non è il caso di chiuderlo tutte le volte. Tra l'altro, probabilmente il proprietario gliel'aveva insegnato, fa anche il seduto, si accuccia facilmente, è facile accarezzarlo, quindi è un cane amabile, è molto diffidente, quindi va bene anche una di quelle proprietà che magari avete un'azienda agricola, che a volte non ci siete, con lui è molto difficile convincerlo a farsi amico, cioè nel senso non è di quei cani che basta poco per farselo amico, infatti nel caso voi lo voleste, ve lo devo portare nel vostro recinto, nella vostra proprietà, ci metterete qualche giorno ad avvicinarlo e poi avrete questo bel tipo di rapporto, guardate, ha massima fiducia in me, adesso lui si corica vicino a me e io me lo accarezzo tutto, è vero caracca, quindi se siete interessati a questo bel maschione, contattatemi che ce ne arriviamo, io e lui a casa vostra, ve lo introduco nella vostra proprietà, vi do un po' di dritte e dopo la guardia, lui inizia già a farvela subito, guardate com'è bravo, basta che io lo tenga al guinzaglio e lui si accuccia vicino a me. E avete un bel cane, un bel cane che può far coppia con una femmina magari che avete anche non da guardia, perché lui la guardia la fa comunque, ok? L'investimento su questo cane è limitato perché non è un cane di prima scelta, è un cane perché è interessato ad avere una grande sorveglianza anche di una grande proprietà, un cane equilibrato, bello, molto bello e quindi vi lo posso portare, ovviamente solo i trasporti dei cani, io li faccio solo più Italia del nord e parte dell'Italia del centro, però se abitate in questa parte d'Italia ve lo posso anche portare a domicilio, ok? Vi ringrazio di avermi ascoltato fino a questo punto, vi saluta anche Carac, questo bel cagnone e a presto!